Dentro questo frigorifero c'è tutto il mio mondo. Ci sono i libri, le sigarette, il cibo, il dentifricio, lo spazzolino, tutto quello che serve. Ed è qui che io vivo. Poi il rapporto con mia figlia, che poi diventa il rapporto con mia madre, è una storia circolare bellissima che fa molto ridere. Tu hai questa fissazione delle regole, ma la regola non è la cosa che spiega, la regola è una cosa spiegata. Questo è un concetto molto importante, lo dice Wittgenstein, filosofo ebreo del secolo scorso, ma poi Wittgenstein lo sai che era compagno di Banco di Hitler? Come che c'entra? C'entra. La storia è molto importante. Com'è questa donna? È energica, polemica, ha bisogno d'aria, vuole un po' cambiare la situazione. Entra e provoca un cambiamento, affettuosa, a modo suo. Ma quanto dura sta lavatrice? Oh, ma è tutta schiuma. I panni non ce li avete messi? Cioè la fate a vuoto? Concita, hai fatto la lavatrice a vuoto? Io sono la figlia, l'analista e il narratore. Da figlia cerco molto le attenzioni della mia mamma, la concita. Da analista la curo, in realtà anche da figlia mi prendo cura di lei, e da narratore come se io osservassi tutto quello che succede in casa. Ma perché io mi domando qualcosa avrò fatto, devo aver fatto? Secondo me è perché non mi piacciono le rane fritte. Non so, però io penso che se dovessi mangiare tutti quegli animaletti, quelle, non lo so, le cose, le lumache, cioè finisce che io muoio.